Sappiamo benissimo che lascia il tempo che trova la bandiera blu. Questa decisione mi sembra un po' alquanto bizzarra. Inizierà ufficialmente il 23 e 24 maggio prossimo la stagione balneare al Lido 1 di Fano, ma quest'anno nella spiaggia non sventolerà la bandiera blu. Perplesso della situazione il gestore Matteo Cecconi. Fa riflettere il fatto che possano dare la bandiera blu a una città come Fano, mettendo dei distingui. Alla fine se ci sono dei criteri che non vengono ottemperati in maniera sufficiente per poter ottenere la bandiera blu, la logica mi impone di pensare che dovrebbe essere tolta a Fano in toto. Ti viene sbattuta in faccia ma che ti pone delle riflessioni. Anche perché in questo modo alla fine vengono colpiti degli esercizi commerciali in maniera proprio quasi buona, non lo so. Insomma si faranno delle valutazioni, adesso vedremo. Stesse condizioni all'Arzilla, dove l'anno scorso ci sono stati diversi problemi di balneazione. Ancora ufficialmente non ci hanno comunicato niente della bandiera blu e di blu abbiamo la piscina che stiamo costruendo per quest'estate 2015 che si prevede calda, abbastanza calda. A tranquillizzare bagnini e turisti è l'assessore al turismo Stefano Marchegiani. Il vice sindaco ribadisce che non c'è nessun divieto di bagnazione per i tratti del litorale fanese. Innanzitutto vorrei precisare che la bandiera blu è un riconoscimento di eccellenza quindi dobbiamo essere molto contenti che la stragrande maggioranza del litorale nostro conferma la bandiera blu. Il Lido ha un'acqua buona, quindi si è detto ma non c'è la bandiera blu in Lido. La bandiera blu c'è con acqua eccellente, il Lido quest'anno con le grandi mareggiate e le piogge soprattutto nel periodo estivo ha un'acqua buona quindi nulla di male, una spiaggia assolutamente balneabile come tutte quelle di Fano. Abbiamo dei punti un pochino più negativi alla foce dell'Arzilla e quindi questi punti, un pezzettino di foce del Metauro e la foce dell'Arzilla con il Lido che è adiacente sfugge dalla bandiera blu ma tutte le spiagge sono balneabili. Volevo tranquillizzare che non si spargesse con strane parole d'ordine che farebbero del male al turismo di Fano. Non è così, uno si può tranquillamente bagnare in tutte le acque di Fano cercheremo noi in futuro di risolvere quei problemi annosi e strutturali dell'Arzilla in particolare con una vasca di laminazione che va fatta perché quando piove tanto gli scolmatori tracimano e in quei giorni i prelievi ovviamente non sono molto favorevoli ai fini della bandiera blu ma assolutamente grande tranquillità per il normale bagno insomma.